Ciao, io mi chiamo Alessandro Grima, ho 37 anni, sono nato il 29 giugno dell'86 a Karate Brianza, in provincia di Monza Brianza. Sono nato l'anno di Chernobyl, per capirci, anche se non ho modifiche genetiche di nessun tipo, infatti sono alto 1,74, quindi in altezza media, e ho il 42,5 di piede. Ho vissuto, lavorato e studiato per tanti anni a Milano, mi sono diplomato come attore in Accademia Polograssi a Milano, e poi ho continuato a lavorare e due anni fa mi sono trasferito a Roma, dove vivo attualmente, in zona Centocelle, in via dei Faggi 63, questo è il mio domicilio. Che dire, vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per avermi ascoltato e speriamo di poterci incontrare dal vivo. Buona giornata e buon lavoro. Ciao.